Sindaco, come sta andando la zona rossa? Pensa che il Comune dovrà prendere dei provvedimenti più restrittivi? Io tutto quello che faccio lo condivido col Presidente della Regione. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà il contagio e se è necessario nella nostra città prendere qualche misura aggiuntiva. La cosa importante ora è che i cittadini siano disciplinati nel rispettare le regole. Ieri è andata piuttosto bene. La Polizia Municipale ha fatto molti controlli nelle aree verdi, parchi e giardini ma non ci sono stati in particolari casi di violazione neanche nei controlli effettuati da Polizia e Carabinieri. Quindi la città sta rispondendo bene.